Patron Alessandro Santoro era un derby da vincere per tanti motivi, per la classifica, anche per sbloccarsi tra le mura amiche. È uscita forse la peggior prestazione interna con un casalbordino davvero mai pericoloso. È mancato praticamente tutto. Sì, sì, non saprei dove cominciare. Cominciare da me fino ad arrivare all'ultimo dei magazzinieri. Insomma, abbiamo mancato tutti quanti all'appuntamento e dobbiamo cominciare a fare un attimino un'analisi attenta perché se questa squadra fuori casa sciorina delle prestazioni eccellenti perché abbiamo fatto due vittorie e un pareggio a Vasto con la Vastese e in casa invece abbiamo collezionato la miseria di un punto su quattro partite, evidentemente qualche problema di fondo c'è. Mister Zeytulaev, non è un caso, arriva il primo gol in stagione di Cristian Siavetta che fa rima con primo successo stagionale in trasferta e terzo posto. È una domenica perfetta? È una domenica perfetta e sono contento tantissimo per Cristian perché lui fa tantissimi sacrifici. Lo sa soltanto lui, lo sappiamo noi in squadra perché si mette a disposizione della squadra ma è un ragazzo veramente disponibile con un passato che ha comunque da calciatore ma mostra una grandissima umiltà sia fuori dal campo ma soprattutto dentro il campo perché trascina i compagni quindi oggi ha segnato un gol pesante per noi e per il percorso che stiamo facendo quindi sono contentissimo per lui. È contento anche per la squadra? Sono contento molto per i ragazzi perché ci tenavamo a questa sfida e abbiamo tenuto molto bene il primo tempo perché comunque sapevamo che era una squadra giovane, corrono, sono anche allenati molto bene però c'ho anche da dire che c'è un secondo che è Nicola Fiore che a livello dei consigli è tanta roba quindi questa partita la voglio anche dedicare a lui perché veramente mi sta dando una grossissima mano. Grazie a tutti.